Ad Alessandria domani era atteso anche il Vice Ministro dei Trasporti. Guerra di carte bollate, salta convegno sull'omicidio stradale, bufera e spaccatura nell'Associazione Familiari delle Vittime, Miriam Massone Alessandria. Due siti internet, due presidenti, una montagna di denunce, quattro procure interessate, Verona, Grosseto, Messina, Roma, e una guerra intestina che sta facendo tremare l'Associazione Familiari Vittime della Strada. Finora era rimasto tutto in casa, ma la possibilità che il vaso di Pandora sulle beghe della Ollus venisse scoperchiato proprio in questi giorni, si parlava pure dell'arrivo ad Alessandria di una truppa delle Iene, potrebbe essere il motivo che ha convinto la provincia ad annullare il convegno sul reato di omicidio stradale, in programma domani a Palazzo Ghilini, e organizzato proprio dall'Associazione Familiari Vittime della Strada, in particolare dalla corrente guidata dall'Alessandrino Ezio Bressan, Vice Presidente, e dalla storica Presidente Giuseppa Cassaniti. I motivi ufficiali Le motivazioni ufficiali invece sono altre, impegni inderogabili del Vice Ministro dei Trasporti, Riccardo Nencini, che era stato invitato come superospite, assieme alla Cassaniti appunto, e agli Alessandrini, Ravetti e Borioli, che è anche membro della Commissione Trasporti in Parlamento, e che proprio in questi giorni sta lavorando alla modifica del Codice della Strada. A me spiace, perché si trattava di un momento di confronto unico, dice Bressan, ma è solo rimandato, a settembre. Sulle polemiche taglia corto, l'omicidio stradale va trattato in maniera trasversale, lasciando fuori l'eliti. La Presidente comunque è una sola, Giuseppa Cassaniti, e il sito internet è quello che finisce con .org. Su .eo, invece, il nome è lo stesso, Associazione Familiari Vittime della Strada, il simbolo anche, le due mani incrociate, ma il Presidente è Alberto Pallotti. Sì, sono io, conferma lui, è anche l'autore di una serie di denunce contro la rivale. Le indagini sono dottore in corso, in una di queste chiami in causa anche l'Agenzia delle Entrate, alla quale spetta il compito della registrazione del nuovo Presidente, in seguito alla votazione dell'Assemblea Nazionale, datata maggio 2013, e come previsto nella normativa sulle Ollus. Alla fine, il Tribunale di Roma, con un'ordinanza del dicembre 2014, dà ragione a Cassaniti, riconoscendola quindi come Presidente, ma ammettendo anche l'esistenza di una situazione di incertezza sugli eventi della vita associativa. Un altro pronunciamento del Tribunale di Grosseto, invece, cita e quindi riconosce Pallotti come Presidente di questa associazione, che riceve soldi pubblici ed è chiamata a rappresentare i familiari delle vittime in sedi autorevoli. Insomma, siamo nel regno del caos e delle accuse, pesanti come i macigni. Nella molle di denunce che fanno riferimento ad anni del passato, si parla anche di ingiuria, falso, sostituzione di persona, appropriazione indebita di denaro pubblico, malversazione. Il senatore Daniele Borioli è fermo. Né come parlamentare, né come membro della Commissione Trasporti, sono mai stati informati di lotte interne, eppure ho un indirizzo pubblico a cui chiunque può contattarmi. Il metodo con il quale una parte dei soci sta procedendo non lo condivido e mi insospettisce. Se si vuole mettere in discussione qualcuno, esistono canali più ufficiali da preferire al polverone mediatico. Io ho sempre interloquito con Cassaniti, incontrata pure a un'iniziativa sul tema alla Scuola della Polizia di Stato, assieme al capo della Polizia Panza. Le spese discudibili. Nell'inchiesta spuntano poi fatture di spese e scelte ritenute discudibili e fatte dall'Associazione tra il 2010 e il 2013. 9.900 euro per lo spettacolo teatrale della maternità offesa, 1.235 euro per una stanza, due notti all'hotel American Palace di Roma e un calendario sexy con Miss Security Street 2011. Di questo non si conosce il costo, per sensibilizzare alla guida sicura per dirne alcune. Del calendario sarebbe stata avvertita anche la finanza. Grazie. Grazie.